ciao e benvenuti alla nuova puntata di domande e risposte questa è la nuova rubrica in cui l'ultima domenica del mese sulla pagina facebook raccolgo le vostre domande e poi in un video sempre nel corso del mese quindi prima che vi farò formulare le nuove domande risponderò appunto in video alle domande poste siamo arrivati al terzo video e andiamo a parlare quest'oggi ancora di tarocchi che per cui avete sempre molte domande un pizzichinino di astrologia ancora registri acascici e desideri allora iniziamo dai tarocchi valentina chiede cosa fare se chi si rivolge a noi per una lettura è scettico o in uno stato negativo allora il mio consiglio è evitare di leggerli le carte per due motivi uno perché non dovete convincere nessuno quando fate i tarocchi e i tarocchi sono uno strumento sacro e chi si rivolge a voi affinché gli effettuate una lettura deve approcciarsi col debito rispetto non dovete convincere le persone per tanti motivi appunto per questo motivo sacro e di rispetto nei confronti dello strumento dei tarocchi appunto e secondo perché non tutti credono ai tarocchi e alla loro utilità ed è anche giusto così bisogna anche rispettare se voi ci credete allora non non avete necessità di convincere nessuno se poi è una in un'attitudine negativa state pur certi che la lettura non verrà bene vi porto un esempio che mi è capitato in tanti anni di consulti una volta c'era una persona una persona che si voleva far fare i tarocchi da me io gli dissi va bene aveva prenotato appunto un consulto e ci eravamo messi d'accordo eccetera quando poi ci siamo sentiti perché io la maggior parte dei consulti li faccio telefonicamente mi dice che praticamente era riduce da un funerale e che si trovava ancora in mezzo alla strada io gli dico di rimandare il consulto perché comunque non non era la condizione di concentrazione adatta e anche lo stato emotivo che chiaramente era in uno stato emozionale lui mi dice no che vuole che appunto io gli lega le carte che si sarebbe messo a un angolo per ricavarsi un po di privacy ero un po più agli inizi oggi mi sarei imposta avrei detto no non lo faccio per il consulto ai tempi però ma secondai diciamo il cliente una volta non sa bene cosa fare insomma beh inizio a leggere le carte e sento una forte proprio resistenza da parte di questa persona cerco di trovare la modalità di interpretazione delle carte poi ognuno trova la sua etica come io insegno nei miei corsi di tarocchi soprattutto nell'academy io vi insegno a crearmi un'etica quando leggete le carte la mia etica è che io anche cercando una modalità come dire gentile e diplomatica io dico tutto quello che le carte mi dicono di dire per rispetto appunto all'oracolo al che inizio a dire guarda tutto sommato il periodo che vivi gli dico formula una domanda non riesce a formulare la domanda quindi dice vabbè ti chiedo in generale un po la situazione dico guarda è meglio fare una domanda più specifica insiste per fare la domanda generale quando fate o rispondete a una domanda generale la persona non è dell'umore gli risulta ancora più difficile capire di che cosa gli stanno parlando le carte comunque gli inizio a dire guarda la situazione non è poi così male perché comunque si sta stanno avvenendo delle trasformazioni nella tua vita mi esce il sole come prima carta incrociato era il metodo della croce celtica al al giudizio quindi dico guarda è un buon momento il sole una carta positiva dico un buon momento quello che vivi e ci sono delle trasformazioni che devi andare a fare ma alla base di tutto questo c'era il carro quindi altra carta positiva dico perché comunque hai avuto delle delle vittorie dei successi nell'ultimo periodo sento che si inizia a stranire sempre di più questa persona mi inizia a dire ah no come puoi dirmi che un buon periodo io adesso che insomma sono stata anche sono stato anche a un funerale eccetera io dico sì ma tu me l'hai chiesto in generale in generale è un buon periodo mi dice sì è vero ci sono state delle cose positive ma in questo momento io non lo sento e lì io ho capito che diciamo c'era stato un po' un errore anche da parte mia di come dire fare i tarocchi ugualmente insomma la lettura era andata male perché comunque tutto quello che le carte gli dicevano non riusciva a far breccia nella persona perché stava in uno stato emotivo lui stava in uno stato emotivo troppo disequilibrato poi col tempo ci siamo chiariti mi ha richiamato si è scusato ha voluto fare un altro consulto e tutto è andato bene in effetti quello che le carte gli stavano dicendo era positivo perché aveva avuto da poco una promozione si stava trasferendo per lavoro ed era molto contento chiaramente in quel momento usciva da un funerale e non stava nella condizione questo per rispondere appunto alla domanda di Valentina e a volte è pensateci sempre prima io quando vi parlo dell'etica vi invito sempre a come dire a prendervi un momento di meditazione di concentrazione e di farvi la prova delle varie situazioni che potreste andare a vivere ecco questa di trovare un cliente non allineato un cliente scettico un cliente negativo che sta in un momento negativo vi può capitare capite prima come vi volete approcciare io all'oggi direi guarda no questa lettura la dobbiamo rimandare dovete anche imparare come al solito ad essere assertive quando leggete le carte l'istinto è la cosa più importante che avete il vostro strumento principale siete connesse state iniziando a connettervi quindi se il vostro istinto vi dice che quella persona non è pronta ditegli di no rinviate in modo professionale tutto quanto cercate anche di fargli capire che lo state facendo per il suo bene e rifiutatevi perché tanto se no vi trovate un muro di gomma e per chi invece sta agli inizi e vuole magari leggere le carte ad una persona per dimostrarvi che funzionano non lo fate neanche questo perché non dovete convincere nessuno è una sorta di quasi mancanza di rispetto dal mio punto di vista nei confronti delle carte e poi insomma ogni caso è da valutare se è una persona a cui ci tenete e sapete che magari la potete far ricredere però insomma non è questo lo scopo di tarocchi voi dovete leggerli alle persone che si approcciano con voi da voi con un certo tipo di rispetto nei confronti dei tarocchi questo è anche il motivo per cui è bene farsi dare sempre un contributo quando si leggono le carte chi lo fa a livello professionale stabilisce un pezzo prima chi lo fa così si fa dare il famoso obolo non mi dilungo sul punto perché ve ne ho parlato in lungo e in largo in tutti i miei corsi e forse anche in qualche video quindi questo punto non lo approfondisco però chi è disposto a dare un qualcosa è anche disposto ad ascoltare queste cose sono strettamente collegate tra loro quindi anche un obolo è anche un euro 50 centesimi insomma non è la somma è il gesto che è importante quindi Valentina cosa fare quando una persona è scettica non cercare di convincerla perché assolutamente non è quello lo scopo dei tarocchi e perché tanto poi non farebbe buon uso dei consigli che i tarocchi gli vanno a dare allora Roberta mi chiede dice carali anche il video è stato bellissimo si riferisce al video numero uno che parlava sempre di tarocchi grazie Roberta sono contenta che ti sia piaciuta e lei ha un grosso dubbio quando ha un mazzo nuovo tra le mani tutte le carte del mazzo sono dritte se io volessi fare una lettura comprensiva di carte al rovescio come dovrei iniziare a mescolare il mazzo in una questione per avere quindi la possibilità di leggerle anche al rovescio allora è una domanda molto carina io ci sono tante modalità si possono mischiare tutto quanto io quella che uso è la modalità del caos primordiale che era una modalità un modo che mi aveva insegnato mia nonna che è estremamente divertente e per il quale vi ho fatto un video e che quindi uscirà praticamente in contemporanea con questo o se non prima addirittura così poi lo trovate e praticamente si mettono ora qua ho per la domanda dopo un altro mazzo di carte però comunque ve lo faccio vedere ugualmente non ho tarocchi in giro mi sa no aspettate che arriva il mio aiutante preferito prende un mazzo di tarocchi prendi i visconti o i perfetti è arrivato un mazzo di tarocchi allora il caos primordiale tanto poi vi faccio il video è facilissimo e si fa così allora il mazzo è nuovo questi tanto sono comunque tutti al dritto vi mettete a terra e iniziate create proprio il caos il caos primordiale iniziate a muovere così fino a che non sentirete che è giunto il momento di fermarvi e vi fermate riunite le carte e vedete appunto che una parte è dritta una parte è a rovescio questo è il metodo che uso io se no potete fare un altro metodo classico è smazzo e piego poi prendo smazzo e piego e questo lo potete fare per un numero a voi sacro un numero che che vi piace particolarmente o col vostro numero magico personale se non sapete come trovarlo c'è il video da qualche parte sempre questo youtube quindi roberta io uso il caos primordiale ed è estremamente divertente ci sono altri metodi anche quello dei mazzetti è un altro metodo utilizzato divertiti e scegli ne uno tuo comunque vanno bene tutti tiziana chiede vorrebbe fare una domanda sull'estese quando c'è una situazione ricorrente nella vita la stesa più adatta è la ruota del karma o hai un oracolo da consigliare al posto dei tarocchi allora allora la ruota del karma in realtà è per andare a sondare una situazione karmica io quando intuisco che c'è un qualcosa che ha a che fare con il karma la prima cosa che faccio è prendere le mie carte l'oracolo della magia gialla perché nella sezione nella seconda sezione nella seconda sezione ci sono le leggi quindi io come c'è appunto la legge del karma quindi cosa faccio faccio una lettura con il mio oracolo a vedere se esce la legge del karma perché a volte intuiamo bene altre volte no perché quando si tratta di noi è sempre più difficile essere obiettivi quindi la prima cosa che faccio è utilizzo le mie carte se esce la ruota se esce la legge del karma e quindi è confermato il fatto che ci sia un qualcosa di karmico che ci sia qualcosa di karmico allora che faccio faccio prendo le carte delle vite passate che appunto parlano di situazioni risolte che derivano da vite passate sincroniche eccetera e vado eventualmente a fare la ruota del karma o altre situazioni e questi questo è principalmente la cosa che faccio se voglio un ulteriore conferma che quello che ho intuito è giusto uso le carte delle risposte degli angeli io le chiamo le tremendine perché ti mollano subito la risposta un po così quindi gli chiedo ma l'intuizione sul fatto che si stia riproponendo un nodo karmico è corretta giro e vedo una volta che mi accorgo che quello che ho intuito è giusto allora vado a fare una ricerca un po nella parte del karma se già ho chiaro perché magari mi conosco perché faccio lavoro su me stessa e quindi so qual è il punto che che sto andando a vivere no allora posso usare anche i tarocchi classici o un oracolo che con cui vi sentite a vostro agio non c'è problema perché poi andate a fare la domanda per esempio perché mi capitano sempre persone che poi tradiscono la mia fiducia mi accorgo che è karmica cerco una conferma in un mazzo che può essere appunto il mio che c'è la legge del karma o un mazzo che può avere carte sì o no per capirci mi dicono sì allora prendo i tarocchi e dico perché e posso fare anche una lettura normale con i tarocchi oppure da dove deriva e allora la mi vado a fare un giro di ruota karmica potete fare voi insomma l'importante a monte secondo me è avere la certezza che è la legge del karma quella in azione e che non abbiate travisato la legge perché a volte può succedere per esempio una volta ero tanto convinta che fosse la legge del karma le carte poi mi hanno detto che invece era la legge della sfida e da là chiaramente ho cambiato un attimo la prospettiva e quindi poi quello che sono andata a sondare è stato chiaramente differente e quindi allora luna luna dice ciao mi piacerebbe che tu spiegassi come si fanno i vari oroscopi sui tarocchi allora sui con aspetta eh con 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 i tarocchi giusto allora luna un po' proprio da adesso dal 24 di agosto le leggi della magia si sono un pochino aperte a una a un certo tipo di astrologia una astrologia angelica ma non solo quindi già per questo ora mensilmente troverete un video che ha a che fare con il segno zodiacale che entra e quindi consigli degli angeli sulla base del libro di dorin virto angel astrology e che che possiamo avere per viverci al meglio quei quei transiti astrologici detto questo è molto divertente fare delle previsioni astrologiche con i tarocchi e però chiaramente è un discorso un po' a lungo e andrò a farci magari che ci vado a fare un video in in cui ti spiego come si fa l'oroscopo con i tarocchi comunque è molto diciamo semplice ed è il mio metodo soprattutto incentrato più sulla parte del tarocco che sulla parte dell'astrologia dove non è la mia specialità però un po' come le ruote dell'anno si stabiliscono i punti si stabiliscono i segni e si va ad estrarre uno più carte per ogni segno tendenzialmente si fa così però poi nella pratica ti faccio un video apposito anche perché già in questo video di domande e risposte mi dilungo un pochino se vi faccio anche i tarocchi vi faccio vedere come si fanno questo video dura un'ora e mezzo quindi non vi voglio torturare ti farò un video apposito luna grazie perché è una cosa molto carina fare gli oroscopi con i tarocchi la domanda di barbara dice e passiamo quindi ai registri acascici e dice vorrei capire se una volta aperti quindi registri acascici e viste le prove che dobbiamo ancora affrontare queste possono essere cambiate nel senso di eliminate punto c'è un libero arbitrio su questo o se deve proprio soffrire bella domanda allora una volta aperti i registri acascici in realtà poi vengono richiusi questo per correttezza di pratica per completezza di pratica nel senso che quando una lettrice o voi stessi se siete capaci apre il vostro registro acascico subito dopo lo richiude perché perché appunto va va richiuso legge dentro quello che avete bisogno di sapere e ve lo riferisce a quel punto cosa succede a quel punto tra virgolette si applica la legge della conoscenza ossia voi sapete sapete qual è la prova sapete perché ve la siete programmata il libero arbitrio c'è e ci sarà sempre perché anche se io mi programmo qualcosa la parte emozionale in un certo senso la frequenza emozionale la decido sempre io quindi se voi vi siete previste per esempio un licenziamento in tronco che può essere per alcuni visto come quasi la fine della vita proprio cioè addio come faccio per altri può essere visto l'inizio quindi in realtà poi c'è sempre il libero arbitrio il libero arbitrio è su come viversi le cose su in base al cammino che si fa quando si arriva alla prova ci sono delle vie ci sono volte che si programma una sola via ci sono volte che si programmano più vie proprio perché l'anima prima di nascere già sa che quella sarà per esempio una prova tosta e quindi si fa il famoso piano b o piano c o piano d addirittura a volte si possono prevedere tante tante cose poi invece ci sono le prove cosiddette primarie e quelle magari prevedono un solo sentiero ma il come resta invece il come emotivamente si vive rimane la scriminante che poi va a generare o a sanare il karma questo è un discorso veramente complesso sui registri akashici ma cercherò di renderlo il più semplice possibile tutto questo per dire che le prove che bisogna affrontare possono essere sia cambiate che eliminate ma delle condizioni nel senso io per esempio mi sono previ mi sono prevista un una una situazione che mi avrebbe un'infanzia in un certo modo che mi avrebbe portato ad essere una donna in un certo modo se io ho fatto già tesoro di quella parte dell'infanzia la donna sarà sarà arrivata ad essere donna con un determinato bagaglio a quel punto determinate prove non è detto che mi siano più necessarie e quindi è come se le varie quando uno prevede con i registri akashici sei di fronte a una scacchiera no c'è proprio queste immagini i maestri dicono non pensate che sia un'immagine della mente è proprio un piano nella un luogo nella cascia reale si sta su questa scacchiera per vedere tutte le diramazioni che si possono prendere quindi per esempio questo soprattutto con le malattie se per esempio una persona viene per imparare l'amore di sé e lo impara prima di giungere alla prova della malattia può darsi che quella verrà modificata e non andrà non dovrà andarla ad affrontare perché ha imparato la lezione prima di giungere a quella prova e questo è l'ipotesi in cui la persona non sa può avvenire anche così cioè diciamo che un po alla romana no tu prendi un sacco di batoste se capisci prima bene se no la vita ti dà altre mazzate quindi state quante mazzate ci metti per capire puoi prenderne un po di meno questo sì perché l'anima te ne programma più di una di prova per capire quindi se tu ormai sai e ti fidi dell'universo e tutto quello che avviene lo vedi come un'opportunità per e la prendi bene allora ti muovi in un certo senso se tu ogni cosa la prendi di petto e ti ci vai a soffrire però c'è bisogno dell'altra 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 piove sempre sul bagnato fino alla mazzata finale che in realtà ti hai riprogrammato per arrivare poi a capire la lezione che volevi capire e che con le buone non stavi capendo questa appunto è l'opzione 1 di cui di cui sopra l'opzione 2 invece è quella che grazie ai registri akashici sempre se c'è una determinata consapevolezza si può riprogrammare il registro che vuol dire vuol dire che se io ho preso determinate consapevolezze quindi vado a sapere che la mia prossima prova è per esempio una forma di una malattia piuttosto che una perdita piuttosto che appunto perdere magari il lavoro eccetera si può andare a riprogrammare la prova e riprogrammarla ma deve essere assolutamente in sintonia con quello che altro col punto in cui l'anima è giunta nel senso se per esempio vi deve arrivare un'opportunità e voi aprendo i registri sapete che sta per arrivare e vi sentite pronti potete deprogrammare nel tempo e riprogrammarla più vicino oppure potete dire ai maestri che è la miglior cosa se se mi reputate pronto fatemi capitare l'opportunità perché sono pronta a coglierlo ok quindi si lavora sempre con le guide con i maestri è un argomento molto delicato non si deve per forza soffrì però paradossalmente dato che su questo piano su questo mondo si apprende per contrasti solo attraverso la sofferenza e peraltro quella ammazzate sembra che capiamo quando è soft quando è giocoso quando ci arriva le cose positiva in realtà non sempre ci aiuta a capire se impariamo a capire con le buone è molto meglio e lì si riprogrammano determinate cose e ci evitiamo di soffrire so che questo è molto complesso come discorso ma spero comunque di aver preso l'idea l'ultima domanda è di valentina è una domanda secondo me molto carina e dice per quanto riguarda i desideri ci sono cose che se vengono formulate bene non possono comunque realizzarsi ad esempio io vorrei eliminare la cellulite e aumentare il seno è possibile questo con le 14 leggi universali oppure ci sono cose che anche l'universo può non può a cui anche l'universo non può farci nulla spero di essermi spiegata bene allora la domanda è molto carina e allora diciamo che partiamo da un presupposto l'universo tutto può quindi in realtà in astratto sì sarebbe possibile cioè sarebbe assolutissimamente possibile la questione mettiamola così è un po il come è un fatto di piani allora vivendo a norma con le 14 leggi universali noi andiamo a vivere una vita felice e una vita proprio che cammina verso la gioia una vita in cui noi magari agiamo in un modo tale in cui si va anche verso l'accettazione di determinate cose quindi magari il difetto in sé diventa meno evidente per esempio o anche attraverso una vita per esempio sana dove magari fai uno sport per cui ti ritroverai a avere magari una postura una come dire un un po un seno un po più grande e magari una miglioramento unito chiaramente a delle cose sul piano materiale che può essere un delle tisane drenanti che possono essere dello sport mirato cioè diciamo che io sono sempre fautrice del un po della collaborazione con l'universo cioè mettiamoci del tutto comodi anche se c'è chi dice che basta che voi lo desiderate così avviene però abbiamo una mente razionale forte che non ci fa credere nel miracolo automatico chiamiamolo così io credo in una legge che che è un po che è la legge dell'azione ossia noi dobbiamo fare una sorta di primo passo affinché l'universo ci sostenga quindi formulare bene il desiderio è assolutamente basico e quindi il tuo desiderio potrebbe essere formulato bene innanzitutto quindi mi piacerebbe aumentare il mio seno e aumentare il volume del mio seno e ridurre per esempio la parte della cellulite una volta detto questo secondo me va aiutato con un tipo di come dire di stile di vita sempre coerente con questo desiderio ossia che può essere appunto dello sport e può essere un amore per se stessi cioè io credo che un desiderio in questo senso sia comunque collegato a un certo tipo di applicazione della legge dell'amore nel momento in cui da una non accettazione si passa un'accettazione può anche avvenire il miracolo del cambiamento perché noi andiamo ad agire dentro quella legge e quindi magari andiamo a fare dei detox andiamo a bere più acqua andiamo a bere più o non lo so qualcosa che ci può che può essere drenante quindi può far bene e quindi ci può essere una riduzione magari c'è anche una riduzione di peso e invece più sport e quindi si può avere un miglioramento anche sul corpo fisico diciamo che questa è un po' la risposta perché comunque anche i nostri desideri operano dentro le 14 leggi universali quindi non basta in un certo senso esprimere un desiderio ma quel desiderio deve essere a norma di legge questo nel mio corso per formulare i desideri che si realizzano che trovi online sul mio blog poi ti metto il link nel box sotto lo spiego bene cioè come formulare un desiderio a norma di legge un desiderio che nasca sempre da una frequenza alta e mai da una frequenza bassa che può essere appunto quella della non accettazione per esempio quindi si ci si rimuove prima sulla frequenza e poi ti assicuro che nel momento in cui prendi il flusso della legge che in questo caso appunto probabilmente la legge dell'amore ma poi si incatenano tutte quindi può essere magari la sfida a tenere una vita sana può essere per esempio l'unità a sentire a sentire il tuo corpo nell'intero può essere della legge appunto della della conoscenza quindi imparare cosa ti fa bene cosa ti fa male cosa sviluppa la parte che vuoi sviluppare cosa meno poi cioè se diciamo non si ricorre a chirurgie eccetera magari non è che si arriva a chissà che però l'universo sa sempre stupirti nel come ti ritrovi poi a dire cavolo si è realizzato il desiderio guarda che modo carino che ha trovato l'universo quindi insomma prova per credere ma la cosa importante è metterti nella modalità dell'esprimere un desiderio che si realizza un desiderio ben formulato è un desiderio realizzato perché ha le leggi sotto cioè che che lo sostengono e quindi gli danno la giusta frequenza anche qui spero di di aver di aver risposto ragazze e ragazzi anche questo video ha durato una mezz'oretta io spero di aver risposto a tutto a fine mese adesso fine agosto sulla pagina però tutti i mesi ormai l'ultima domenica del mese metto il post con le domande e le risposte voi scrivete le vostre domande sotto e io poi nel video che esce sempre prima entro il mese insomma per capirci vi do delle risposte spero che anche questo video vi sia piaciuto un sorriso e alla prossima ciao